Il nome, la tavalle più perestrella, di cui il territorio di Montefonte fa parte conservando tra i luoghi, anche l'antico toponico, per la presenza di tutte le facce, per la rinchezza del soggetto, per la prosperità del suolo, è stata la grandissima data di sede e di attività umane. Il suo nome, secondo la nostra ipotesi, deriva dell'essere stata questa ballata, insieme a un contesto montuoso che avvolge un manuato e un luogo di confine di diversi approcci di città, un limite tra l'antiche realtà costiere e quelle zone interne. Esplorando i luoghi della russana montuosa che avvolge da nord-ovest fino al sud, la valle di un feresterno, oltre a verificare l'esistenza dei luoghi come feresterni e montagne binari, due realtà che hanno sicuramente a Firenze col termine Finis. Con molta sorpresa, da parte nostra, abbiamo scoperto semplici antiche parche, nonché di torri di avvistamento, posizionate nei punti più strategici. Infatti, dove cadevano i marchi di una via antica, maggiore, via salernitana, verso sud, e di un'antica via campanina, verso nord-ovest. Abbiamo un modo di osservare resti di bene e proprio strutture di avvistamento e di noi in un'antica. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti